Comandante, una grande giornata, un grande impegno soprattutto per la Polizia Locale per garantire la sicurezza e la viabilità. Sì, questa mattina abbiamo chiuso i ponti, Ponte Leardi e Ponte Navi per garantire il trasporto pubblico che ha accumulato un ritardo di circa 15 minuti, ma abbiamo garantito di arrivare tutti a scuola nei tempi previsti. Una giornata molto impegnativa, lo ricordiamo, noi diamo la precedenza al trasporto pubblico, il trasporto privato rimane in coda o deve cambiare i percorsi. La priorità è la sicurezza, così come è indicata dalle autorità di pubblica sicurezza. Invitate la cittadinanza a un po' di collaborazione, insomma, vista nella portata dell'evento. Qui è un G7, non è una sagra, non è una festa di paese, è un evento mondiale, abbiamo tantissima attenzione mediatica e questo è importante per la città, però la collaborazione serve, per cui anche nel pomeriggio adotteremo dei piani straordinari per cui evitare di venire con la macchina in centro. È una prova generale, visto il prossimo G7 delle Camere Basse, l'arrivo del Papa, insomma, a Verona in questi mesi sarà davvero sotto gli occhi del mondo. Sì, è un allineamento di pianeti, l'abbiamo definito. È un anno straordinario per la città, straordinario per i miei agenti, che ringrazio perché hanno fatto sforzi in questi giorni importanti. Ricordo a tutti che abbiamo ancora il cantiere di via Città di Nimes, che non è una barzelletta, ma ogni mattina ci porta via veramente tanto al lavoro. Infine, comandante, anche un'ottima prova di collaborazione tra forze dell'ordine. Qui vediamo polizia locale, carabinieri, polizia, insomma. Beh, io credo che qui è la dimostrazione che le autorità di pubblica sicurezza e tutti i comandanti provinciali lavorano per il bene della città. Lo ha dimostrato il prefetto, il questore, il comandante provinciale dei carabinieri, la guardia di finanza. Noi ci siamo, diamo il nostro apporto e cerchiamo di ridurre i disagi. Questo è l'obiettivo, però gli eventi a livello mondiale portano anche questo.